Il centro-sinistra conquista nuovamente la maggioranza in consiglio provinciale. La commissione elettorale della provincia di Arezzo ha infatti reso noti i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. La lista più votata è stata centro-sinistra per Arezzo che ha ottenuto il 45,55% dei voti, eleggendo 6 consiglieri. La lista comuni della provincia ha ottenuto il 44,94% dei consensi e ha eletto 5 consiglieri. La lista progetto civico infine ha ottenuto il 9,51% dei consensi, eleggendo un consigliere. Il nuovo consiglio provinciale sarà quindi composto oltre che dal presidente della provincia Roberto Vasai che rimarrà in carica come il consiglio appena eletto fino al 2018 dai consiglieri Alessandro Caneschi, Moreno Botti, Francesca Neri, Donato Caporali, Gabriele Corei e Leonora Ducci per la lista centro-sinistra per Arezzo, Alessandro Ghinelli, Silvia Chiassai, Mario Agnelli, Nicola Carini, Alfredo Romanelli per la lista comuni per la provincia ed infine Francesco Del Siena per la lista progetto civico. Soddisfatto il segretario provinciale del partito democratico Massimiliano Dindalini. Il centro-sinistra si conferma maggioranza istituzionale in provincia di Arezzo, commenta Dindalini. Il mio ringraziamento va sia ai votanti che agli eletti. Adesso al presidente Vasai e al nuovo consiglio conclude Dindalini gli auguri di un buon lavoro in una fase politica istituzionale che l'esito referendario ha reso ancora più complesso per l'amministrazione provinciale.